Il 7 novembre si è riunito l'Eurogruppo. Dal comunicato fatto dal Presidente Senteno emerge che il negoziato è pressoché chiuso. I testi di giugno sono stati considerati sostanzialmente non più emendabili perché erano stati allora approvati da tutti e anche dall'Eurosum, cioè dai capi di Stato. Quindi sono stati approvati, dice Senteno, aspetti più di dettaglio ma anche di dettaglio importante. In particolare Senteno cita i testi concordati relativi a linea guida per i prestiti precauzionali. È una metodologia comune per analizzare la sostenibilità dei debiti pubblici. Per quanto ci risulta questi documenti per ora non sono pubblici. E' anche quasi chiuso, dice Senteno, il memorandum sulla cooperazione fra la Commissione e il MES. E' emerso con forza nel frattempo un altro terreno di scontro strettamente legato a questo, fra i paesi del nord dell'Italia. La proposta del Ministro delle Finanze tedesco di procedere con la stipulazione comune dei depositi, dando però pesi diversi, e qui arrivo a un punto che aveva sollevato in chiusura il Presidente Borghi, pesi diversi ai debiti dei diversi stati nei bilanci delle banche ai fini dei coefficienti di Basilea, in funzione della loro rischiosità, cosa che vuol dire che le nostre banche dovrebbero dismettere una quantità enorme di debiti pubblici. Il nostro Ministro Gualtieri ha messo subito uno stop, ma diciamo questo è un terreno molto vicino a quello di cui stiamo parlando, ma di scontro molto forte in questo momento. A giugno erano stati A. chiesti e non ottenuti, B. ufficializzati, anche in termini di mozione, impegni precisi nei confronti del nostro Presidente del Consiglio e del nostro Ministro dell'Economia, in modo tale che non ci fosse alcuna approvazione in merito al meccanismo europeo di stabilità senza informare preventivamente il Parlamento. Non posso far altro che, anche alla luce della ricordata affermazione da parte del Presidente Senteno che a giugno è stato tutto deciso, mi sconcerto, perché è stato detto in dibattito in modo piuttosto chiaro dal nostro Presidente Molinari. È stato riaffermato con una mozione parlamentare che, seppur ricordando che bisognava al limite ragionare esclusivamente in parallelo con Edis e altri pilastri dell'Unione bancaria e quindi senza assolutamente andare a provare una cosa senza avere altre cose che devono essere poi valutate, perché le osservazioni fatte dal Ministro Scholz che ventilavano dei possibili progressi in termini di garanzia sui depositi mi pare che per un anime consenso non fossero nella direzione auspicata, mettiamola così, e quindi non potevano sicuramente essere parte dei negoziati di giugno, perché se questo non c'era e solo adesso ci sono state delle aperture per altre in direzione che non pare che colgano nel segno quindi provvederemo quando arriverà il Ministro, anche se il Ministro attuale non è quello passato però se sarà il caso a questo punto convocheremo il Presidente, perché se il Presidente ha la responsabilità e ha avuto la responsabilità di approvare con tutte le oscurità e informalità di quello che succede all'interno di questi consessi dove non ci sono verbali, dove non c'è niente una cosa che il Parlamento gli aveva esplicitamente detto di non fare penso che sia molto molto grave comunque ringrazio il Professor Galli e provvederemo quindi a proseguire anche con le future audizioni del caso grazie